Ehi, va al posto di Patata. Ho le gambe a pezzi. Vado io? Patata, sta peggio di te. Muovi le chiappe. Se quella mezza sega non vuole lanciare, perché io dovrei correre? E di chi parli, uomo di l'alta dei miei coglioni? Che cosa? Guarda che a me la gamba mi fa male veramente. Come no, signor attore, lo zoppo lo fai benissimo. Beh, almeno io non ho una ragazza che mi porta a spasso col guinzaglio sul pisello. Ehi, ma che cosa fate? Non ci si comporta così. Io non ce l'ho, non mi toccate. Adesso perdere i giocchi. Adesso mi sono sopporti, non mi dotevi sotto. Non te ne importa la gente, dai. Anche la gente si sapeva male. Ehi, Harry, sveglia, ti dai. Guarda. Mio Dio, buone notizie, amici. L'India stanno mostrando segni di vita per la prima volta alla settimana. Incredibile, ma vero, stanno dando. Se ne ha più, non posso. Vediamo Willy Ace che cerca di colpire, buone. Beh, perché no? Ce ne sono tanti che vorrebbero dargli. Ace, sferra un gancio, ma manca l'obiettivo. Non so che ne pensi, collega, ma mi sembra che buone tenga la guardia troppo bassa. Rischia il tappeto prima del servito. Dobbiamo eliminare. Tutti. Non si può. Sì. Ehi, voi, siete tutti fuori. Tutti qua. A me.